praeeh ok spero di sar op adesso faccio un vlog nel blog, così vi mostro cosa ho fatto per fare un'agement, di fare un'amardia a partire Già che ho pensato Perché sto parlando a bassa voce Questa parola è che mi frega Amore Poi abbiamo Wind Non lo so Poi abbiamo quella del vento E poi abbiamo quest'altra Anche gli aeroplani passano Sì Fatevi discorsi a casa vostra Invece di rompere sotto la mia finestra Intanto passano anche api così Bellino Moto Non passare mentre faccio il video Ciao a tutti Benvenuti Sì Se vedete svolazzare Scusate Se vedete Sempre da Aliexpress Stiamo andando in questo raccoglitorio gigante Che adesso Ok Io li apro subito perché mi sono già innamorata No vabbè Non ho parole Non ho nemmeno cose per aprire No Un attimo Io ho il Nexus 5 Perché se lo stesse chiedendo Occhi magari anche non frega niente Mi raccomando seguitela Oddio 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 ciao bubbetta ciao bubbetta guarda la zia che volete da me hai ragione cicciolotta e che vuoi zia e che state facendo ah 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 Grazie a tutti.